Era nascosto in cucina, hai visto dove ha messo la pefana? L'ha messo in cucina! E' fuori questa pefana! Eh! Oh! Oh! Non ti ha regalato, le sigarette? Nooo! Cosa è quel pacchettino? Un pacchettino di sigarette? Di lui, Luca è piccolo, non fuma un pefana! Cosa fai? Non fuma, Luca! Ehm! 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 C'è un sigarette quelli? Sì! No! Non voglio fuma! No! Non cosa dici, Luca? Non fuma, sei piccolino, lo fai nella pancina, anche qua non fuma, hai visto? Ma io non fuma! Piccole! Non vedete? Come sono piccoline! Carline! Cosa c'è? Le caramelle! Le caramelle! Non sono sigarette! E le caramelle? Trovai una!